ecco c'è l'entrata in campo il direttore di gara sta controllando le reti la collese calcio gioca con la divisa rosso nera mentre la nostra è giallo rossa con vighe ecco dopo facciamo una foto al centro con ecco l'entrata in campo il direttore di gara della sessione aia di lanciano la signorina roccalba ecco le nostre lady giallorosse che fanno il loro ingresso in campo ecco adesso la collese in salto in campo adesso cerca la scelta del pallone o della metà campo dopo vi piazzate per la foto adesso ok per la foto per la foto piazzatevi per la foto mister gabby la foto forse metterla a posto te mister tutti lo stesso ginocchio grazie 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 grazie